Benvenuti a meteogiuliaci.it, innanzitutto ancora auguri per queste festività natalizie, bene parliamo che tempo farà per Santo Stefano, diciamo piogge su tutta l'Italia, ancora piogge che saranno forti sul Lazio e sulle Friuli, per di più però vi saranno anche nevicate sulla regione alpina a quote oltre 1000-1400 metri, debole nevicate anche sull'Appennino, Tosco e Emiliano, sui rilievi abruzzesi e molisani e soffieranno ancora forti venti, questa volta sui mari, centro meridionali, venti con raffiche fino a 70-90 km all'ora. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete le nuvole che stanno ricoprendo tutta l'Italia, allora il tempo che farà nella giornata di Santo Stefano, vedete le piogge diffuse anche di forte densità sul Lazio e sul Friuli, sta migliorando a partire dal pomeriggio sul Piemonte. Andiamo a vedere le temperature, temperature che saranno ancora miti, su valori intorno 8-10 gradi sul Nord Italia, 12-14 sulle regioni centrali, 16-18 sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora i miei auguri.